Benvenuti alla seconda edizione del TG di Nettuno TV e Radio Nettuno. Benvenuto a chi ci sta seguendo attraverso il nostro sito www.nettunotv.tv Ladri in azione in queste sere d'estate nelle quali ci si addormenta spesso lasciando le finestre aperte. Infatti sono entrati in casa dei ladri mentre il proprietario dormiva senza scassinare nulla perché hanno trovato una finestra al primo piano lasciata aperta. Il furto compiuto l'altra notte in un'abitazione di via San Rocco nel centro di Bologna è finito male però per i due ladri visti da un vicino che ha chiamato il 113. Pochi minuti più tardi sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato che dopo un breve inseguimento li hanno arrestati. Si tratta di un 22enne marocchino e di un tunisino di 28 anni entrambi con precedenti e irregolari. Il primo era rimasto a terra a infilare in una borsa il bottino che il complice gli lanciava dalla finestra. Un computer, un tablet, le chiavi di uno scooter e 160 euro in contanti. Era ciò che il ladro era riuscito a portare via senza svaliggiare il padrone di casa, senza svegliarlo che non si era accorto di nulla ed è stato poi avvertito dalla Polizia. L'intera refurtiva è stata recuperata. Sono in arrivo questo fine settimana 500 immigrati al lab di via Mattei dopo gli sbarchi degli ultimi giorni al sud. Gli arrivi saranno comunque scaglionati perché dipendono dal porto di provenienza. Dalla prefettura arrivano rassicurazioni che comunque non sarà necessario per ospitarli utilizzare la tendopoli che si sta costruendo dietro l'hab di via Mattei. Qui vediamo appunto le ruspe che sono in azione, tendopoli che ancora non è pronta perché stanno lavorando anche in questo momento. Ma già nei prossimi giorni dovrebbero arrivare sia le tende, forse anche le tensostrutture, anche gli strati di stabilizzato che sono il primo passo appunto per realizzare questa tendopoli. Però non sembra necessario ricorrere a questo perché si sta procedendo a sistemare nelle sedi di seconda accoglienza gli attuali 700 immigrati che sono all'interno del lab. Ricordiamo che la struttura può ospitare al massimo un migliaio di persone, ma con le partenze di seconda accoglienza degli ospiti che ci sono attualmente si dovrebbe essere in grado di ospitare questi altri 500 immigrati. E adesso invece andiamo a parlare della Bolognina, in particolare della situazione dell'ex mercato ortofrutticolo della trilogia navile che è rimasta incompiuta e purtroppo doveva essere il fiore all'occhiello della Bolognina ma questo è finita in un degrado che rischia in realtà di portare, di peggiorare con la situazione di una zona che comunque non è sicuramente felice da questo punto di vista. Manes Bernardini, il presidente dell'Insieme Bologna, nei giorni scorsi aveva sottolineato come la presenza di Maceri avesse creato la condizione come punto di ritrovo per chi la sera approfitta per bucarsi, ma c'è anche un altro problema da risolvere che è quello di una struttura, del grande edificio che era stato iniziato da un'impresa privata che poi è fallita e che quindi è rimasto incompiuto. Proprio Manes Bernardini lancia una proposta su come rilanciarlo. È una struttura a grezzo, quasi ultimata nella sua struttura portante, che rappresenta l'ennesimo buco nero della teleologia navile. Qui il problema è che devono subentrare dei compratori, quindi c'è poco da fare da parte del pubblico. Occorre però riuscire a collocarlo perché se noi manteniamo fermi dei mostri di questo tipo sicuramente tutta la zona farà fatica a ripartire e soprattutto sono brutti i biglietti da visita. Io mi chiedo sempre, se cerchiamo dei privati che devono venire a vestire qua, arrivano, vedono l'XM24, vedono le macerie, luogo di tossicodipendenti, poi vedono situazioni di totale abbandono. Penso anche alle aree comunali dove magari non è stata sfalciata l'erba. Ci sono dei problemi e delle piccole opere di manutenzione ordinaria che renderebbero sicuramente più accattivante l'area anche in una prospettiva, ripeto, di rimesso sul mercato. Questi sono problemi che viviamo tutti, subisce anche poi la pubblica amministrazione, qui non c'è una grande responsabilità da parte del pubblico. Qui bisogna, ripeto, trovare le idee, ragionare e cercare di essere anche dei bravi promotori anche in ambito internazionale perché non necessariamente deve essere venduta a investitori italiani. Sicuramente per la sua posizione logistica e vaccinanza alla stazione e il fatto che comunque potrebbe essere appetibile anche in un'ottica di ampie dimensioni territoriali. In 55 minuti siamo a Milano, sicuramente costa meno venire a vivere qua che vivere a Milano. Sei giovani sono stati arrestati in montagnola dalla polizia nell'ambito di un'operazione antidroga contro lo spaccio. A finire in manette sono stati tutti i cittadini stranieri tra i 18 e i 30 anni. Denunciato anche un minorenne, mentre altre 5 persone sono state accompagnate in questura per accertamenti. L'episodio risale a giovedì. Nel corso dell'operazione sono state sequestrate anche diversi quantitativi di droga scovati dalle unità cinofile. Gli arresti sono avvenuti anche nei pressi delle scuole Betti Giaccaglia. Il prefetto di Bologna, Matteo Piantedosi e il sindaco Virginio Merolo, applaudono i risultati di questa operazione. Si augurano che la lotta contro lo spaccio e il degrado in quella zona, ma anche nella vicina via Boldrini, possono essere sempre più efficaci. La vicina via Boldrini ricordiamo che è in vigore da ieri l'ordinanza che fissa nuovi orari per la chiusura dei locali e la vendita delle sostanze alcoliche. Voltiamo decisamente pagina, andiamo a parlare dei bambini di Cernobil che a più di 30 anni dal disastro della centrale nucleare continuano a venire nelle periodi estivi della nostra Italia per fare un periodo di disintossicazione che ha grandissimi benefici per la loro salute. Proprio nei giorni scorsi questi bambini hanno fatto visita all'Assemblea legislativa della Regione dove hanno incontrato la Vicepresidente della Regione, insomma in un momento di incontro e di salute e di saluto a fare il punto sull'importanza del mondo dell'associazionismo che è un pilastro nell'accoglienza di questi ragazzi e proprio il coordinatore regionale del mondo dell'associazionismo e del volontariato Fabrizio Pacifici che andiamo a sentire. Il ruolo del coordinamento di tutte le associazioni nel mondo dell'associazionismo e del volontariato per quanto riguarda l'accoglienza è sicuramente determinante determinante per il beneficio che riesce a dare in termini di qualità della vita di recupero, facendo riabilitazione, di recupero della salute da parte del bambino che in questi 30 giorni, 60 o anche di più perché nel corso degli anni siamo riusciti anche a portare fino a 90 giorni l'accoglienza di questi bambini riusciamo ad abbattere di oltre il 30% le radiazioni che hanno in corpo. Immaginiamo che dopo 30 anni ancora il movimento così forte, così importante, solitaristico nato attorno al mondo dell'associazionismo e del volontariato ancora oggi riesce a determinare un numero importante di bambini che vengono dalle zone contaminate nella nostra penisola. Oltre 15.000 bambini arrivano in tutta Italia oltre 2.000 bambini arrivano qui in Emilia-Romagna per cui noi siamo assolutamente contenti e abbiamo cercato insieme di lavorare insieme all'Emilia-Romagna insieme alla regione Emilia-Romagna che oggi, questo giorno, ci si rincontra si fa approfondimento e si riuscirà senz'altro a rinnovare a dare rinnovata speranza a tutti questi bambini che noi accogliamo attraverso la disponibilità non dimentichiamolo che il mondo dell'associazionismo e del volontariato riesce a vivere solo e esclusivamente per il sostegno di tutte le famiglie dell'Emilia-Romagna. Andiamo a sentire insieme la testimonianza di una delle accompagnatrici di questi bambini lei stessa quando era bambina è venuta nel nostro paese ricorda con grande gioia insomma quei giorni. Sono venuta qua come una bambina, avevo sette anni, ero piccolina e io ricordo quando sono scesa dall'aereo che ero tutta vestita proprio colorata con pantaloncini corti e c'erano un sacco di italiani che io non capivo proprio cosa faccio qua avevo tanta 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 paura ma poi sono stata molto bene qua è già passati vent'anni che io tutti gli anni vengo qua sempre e adesso sono diventata una accompagnatrice. Hai fatto un'esperienza all'interno di qualche famiglia e esistono ancora relazioni con questa famiglia? Sì, è Gabriele Giancarlo, è la mia famiglia che mi ospita, cioè lui è presidente di Helpful Children e lei è segretaria e sì, stiamo sempre a telefono quando anche sono in Belorussia, sì, sempre massimo è stato due o tre giorni quando non ci siamo sentiti. Hai altri fratelli o sorelle che hanno fatto questa esperienza? Sì, per adesso viene mia sorella che ha 17 anni, è appena compiuta 8 e è già la seconda volta che viene in Italia la prima è venuta l'anno scorso. Le scuole Betti Giaccaglia in Montagnola arriva a stima al personale che con cura e zelo si occupa dei bambini ma c'è necessità anche di superare alcune criticità che generano timore così i genitori delle scuole Betti Giaccaglia di Bologna che hanno preso posizione dopo l'episodio del 10 luglio quando due bambini si sono allontanati dal centro estivo promosso dalle scuole. Chiara a fronte, Liliana Silva, rispettivamente presidente del comitato di gestione Betti 2 e Betti 3 in una lettera inviata al comune manifestano la loro rinnovata stima nei confronti di insegnanti collaboratori delle due scuole dell'infanzia che si sono trovati coinvolti nello spiacevole episodio conoscendo la cura e lo zelo con cui il personale esercita la professione con i nostri bimbi. Con la lettera però desideriamo evidenziare la sussistenza di criticità organizzative che generano timori con riferimento alla sicurezza dei nostri bimbi durante l'orario scolastico. Per questo vi chiediamo un incontro di confronto e di chiarimento. Andiamo a parlare invece della strage del 2 agosto nel 37esimo anniversario. Come sempre la regione organizza un momento di ricordo per ricordare le 85 vittime di quella strage. Quest'anno si tratta di tanti spettacoli itineranti nel nostro centro storico, ciascuno dei quali vorrà ricordare una biografia di una di queste vittime. A spiegarci quali sono questi percorsi è il regista di questa operazione, Matteo Belli, che andiamo a sentire. Si parte dal percorso interno e dal percorso esterno della stazione, poi si arriva fino all'extraumatologico, che fu un luogo importante per ospitare i feriti e quindi lo ricordiamo con un narratore all'esterno. Poi si riparte da Piazza Ott'Agosto, il terzo percorso, si arriva in centro. Ci sono dei bellissimi percorsi in centro, nel pieno centro storico. Entriamo nel cortile, nel palazzo d'Accurso, ci muoviamo fuori in piazza del Nettuno. Ci sarà un taxi appositamente offerto da Cotabo per ricordare uno dei tassisti coinvolti nella strage. E poi ci si muoverà con percorsi che andranno uno molto lungo, molto ardito, che andrà da via Pietralata fino a via San Vitale. È un percorso molto particolare che taglia Bologna lungo la linea della via Emilia, quindi Ugo Bassi, Rizzoli, per passare da Piazza Santo Stefano e arrivare in un cortile interno di via San Vitale. Poi ci sarà il percorso in zona universitaria, da Piazza Verdi fino a via Bertoloni. Poi ci muoviamo da Piazza Minghetti fino alla piazzetta adiacente all'abside di San Domenico che fu reinventata dall'architetto Zacchi Roli. E poi c'è il percorso che è da via Castiglione, arriva fino a Giardini Margherita. E poi ci sono i percorsi esterni, diciamo così, da Righi al centro 2 Agosto in via Filippo Turati, il percorso del centro sociale Antonio Montanari che è la vittima più anziana della strage e alla fine finiremo con un cortile interno in via De Amici su uno in piena Cirenaica. Ma come sono state ricavate queste biografie? Ce lo spiega la storica Cinzia Venturoli. Ho scritto l'anno scorso le cartoline da cui parte questo progetto che sono basate esclusivamente sui documenti d'archivio. Quest'anno da quelle cartoline 85 narratori hanno scritto le 85 storie e hanno aggiunto delle azioni teatrali. Quindi saranno dei cantastorie, saranno come le figure tradizionali che racconteranno la memoria e la storia. Quindi c'è molto di chi li narrerà, non sono loro che si sono impegnati in prima persona. Ricordiamo quali storie, chi sono queste vittime? Queste persone sono persone comuni che quel 2 agosto 1980 hanno avuto la sventura di essere in stazione perché magari avevano perso una coincidenza, perché i treni erano in ritardo, perché stavano andando al mare o erano andati a prendere qualcuno che veniva da altre città oppure lavoravano in stazione. E ciascuna di queste storie viene raccontata in modo interattivo per coinvolgere gli spettatori? Esatto, ognuno ha pensato a qualche azione per coinvolgere gli spettatori che potranno seguire tutte le 85 storie oppure seguire i percorsi che noi suggeriamo in modo da riuscire a vederli tutti quanti, se vogliono, o qualcuno, scegliendo quelli che più li aggrada. Infatti ci saranno delle guide che noi stiamo ancora arruolando, diciamo, che accompagneranno come Virgilio, abbiamo pensato noi, i cittadini in questo percorso di conoscenza e di empatia, se posso permettermi, perché entrare nei panni di quelle persone ci fa capire meglio cosa è stata quella strage e che cosa sono anche le stragi che purtroppo continuano ad avvenire. Aumentano le risorse per rilanciare l'attrattività dell'Emilia Romagna. La Giunta regionale ha deciso infatti di destinare ulteriori 5 milioni e mezzo di euro per finanziare i progetti innovativi di riqualificazione turistica, commerciale e culturale. 3 milioni aggiuntivi andranno a sostenere le azioni del turismo, 2 milioni quelle del commercio e 500 mila euro le imprese culturali. Da inizio agosto, dopo l'approvazione dell'assestamento di bilancio, i nuovi fondi andranno a sostenere quindi ulteriori progetti, oltre 119 già finanziati e scorrendo le graduatorie approvate nei giorni scorsi. Al momento sono appunto 119 le imprese emiliano-romagnole finanziate con 15 milioni, adesso se ne aggiungeranno oltre 5 e mezzo, dopo l'approvazione delle graduatorie del bando regionale pubblicate sul sito della stessa regione nella sezione aggiornamenti sulle opportunità. Tra le imprese finanziate, ricordiamo, 42 appartengono al settore ricettivo, quindi alberghi e campeggi, 44 al commercio e pubblici esercizi e 22 alla cultura, quindi sale cinematografiche, teatrali e musicali. La cronaca, ci sono anche tre bambini di 1, 3 e 10 anni tra i feriti di un incidente avvenuto nella serata di ieri alle 23.15 sulla 14 a pochi chilometri da Imola. Il mezzo avrebbe perso il controllo, carambolando e ribaltandosi fino al ciglio della strada dove avrebbe terminato la sua corsa. Coinvolta nel sinistro anche un'auto. I feriti, 7 in totale, 3 donne di 25, 36 e 50 anni, un uomo di 50 oltre ai bambini già menzionati, sono stati ricoverati all'ospedale di Imola con ferite di media gravità dopo essere stati soccorsi da due autoambulanti del 118 sulla dinamica indaga la polizia stradale di Bologna. Voltiamo decisamente pagina, andiamo a parlare di Fico, la grande realtà che inaugurerà probabilmente questo autunno, si stanno riscaldando i motori, è stato stretto un accordo con Ascom per alcune visite turistiche che avranno il compito proprio di guidare i turisti all'interno della grande fabbrica contadina. Ma quale sarà il ruolo di queste guide? L'abbiamo chiesto a Paola Balestra che è Presidente dei Confguide Ascom Bologna. Le nostre guide saranno quelle che forniranno i servizi di visita guidata ai turisti all'interno di Fico. Previo, ovviamente, preparazione che già abbiamo, perché a Bologna non possiamo non essere preparati sull'enogastronomia, saremo anche preparate, cioè verremo preparate qui localmente su proprio il sito Fico. E di quali visite sono? Si gusteranno proprio dei prodotti? Allora, all'interno di Fico elaboreremo insieme con l'organizzazione Fico dei percorsi proprio all'interno del sito che saranno sia sulla filiera sia tematici, dobbiamo organizzarli insieme comunemente. Poi, naturalmente, chi vorrà e speriamo che in tanti vorranno estendere l'esperienza anche in città dove anche lì abbiamo veramente un'offerta enogastronomica e culturale enogastronomica importantissima su Bologna. Quindi, ripeto, per noi è già parte integrante delle nostre visite l'aspetto enogastronomico e ribadisco culturale perché è una cultura per noi. Potrebbero aprirsi nuovi posti di lavoro? Quindi queste figure, avrete bisogno di più figure che facciano questo servizio? Sì, noi siamo sempre in continuo espandersi perché, ripeto, 220 associati sono tantissimi e cresciamo ogni giorno, quindi ci saranno nuove guide. Noi siamo dei liberi professionisti, quindi in questo caso proprio lavoriamo autonomamente guidati dalla federazione e dall'organizzazione di Fico. Era la nostra ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione torna domani con il Tg delle 13.15. Grazie per averci seguito, una buona serata a tutti.